Grazie a tutti! Cilone è riuscito a distruggere la città più ricca del mondo, l'ha fatta a pezzi, ha deviato il corso del fiume perché la ricoprisse d'acqua e di cibere e non restasse più alcuna... Ha, dimmi un po' di che cosa dovremmo avere pausa. Ma Cilone ha ancora ancora questo Cilone, ma te l'ha detto perché ce l'ha tanto con noi? Perché siete antidemocrati. E' la stessa domanda che mi sono fatto io quando l'ho incontrato, da quando qua un uccello parla. Più un po', uccello, perché basta? Perché non sono veramente un uccello. Ah, no, scusate! Adesso mi spiegate che cosa significa tutto questo. No, no, no! E devo giurare sulla cosa che ho più cara al mondo che ciò non significa proprio niente. E come ciò, salute a tutti e voi! Mi spiegate che cosa mi spiegherò? Ho capito! Se non hai capito questo, forse non dovresti essere qui, perché come ho detto, è lungo il cammino. Ma io credo di sapere che cosa sia un numero. Esistono i numeri interi ed esistono rapporti tra numeri. Esiste uno, esiste un mezzo, due, 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 questi sono i numeri. Ma allora la radice di due non è un numero. Allora la radice di due non esiste. E io pure io lo vedo, lo vedo. Il segmento che misura la sua lunghezza, questo ragionamento non significa nulla. Eppure esiste quello che non ha senso, non può, esiste. Allora la radice di due non è un numero. E' un'altra cosa, perché la musica concretamente, molto concretamente, mette in scena. Però, erano soprattutto i cavalli. Allora sì, che piaceva la mia musica, ci fermavano ad ascoltarla e dopo un po' si mettevano a ballare. E si bariti dovevano... E si bariti dovevano... E si bariti dovevano uscitarli per farli proseguire. E ballo, vedere un cavallo che balla. E si bariti dovevano uscitarli per lav으로 o a men zombie. E personale piano Con tests, e linguaggi conson 자�ala alla traduzione per la dorme, e bell'eva, il nostro corso. E un luogo che vuoi una vagale. E un luogo che vuoi? E un luogo che vuoi un luogo che vuoi. Grazie a tutti